Alba Parietti è stata vittima dei ladri. La conduttrice Showgirl 60N, che proprio di recente è stata accusata di aver sfoggiato i suoi beni mostrando gli angoli della sua villa, si è sfogata con un lungo post su Instagram svelando di aver notato che molti oggetti di valore le sono stati trafogati. Ecco di cosa si tratta e come ha reagito la madre di Francesco Pini, Alba Parietti, nel pomeriggio di oggi 11 giugno 2022, ha svelato ai suoi followers di aver subito furti ripetutamente. La subrette 60N ha raccontato di essersi via via accorta di non trovare più numerosi oggetti della sua abitazione. Non si tratta, suo malgrado, di beni qualunque, si parla di vestiti firmati Versace, di scarpe di lusso di Jimmy Choo, pezzi di abbigliamento unici e personali. Insomma, non sono mica oggetti da quattro. I beni, spariti, ha spiegato la Parietti, hanno un valore affettivo e non solo economico. La madre di Francesco Pini, nonostante tutto, ha deciso di non sporgere denuncia. Ecco per quanto riguarda il furto, ho provato una certa rabbia nello scoprire che erano stati portati via i pezzi più importanti. Ho pensato anche di fare denuncia, poi mi sono resa conto che ogni volta che pensavo di andare a farlo mi saliva la rabbia. Denunciare, la persona o le persone che penso possono essere state, significa rinunciare anche per pochi minuti allo stato di grazia, di serenità che vivo. Lascio, a chi mi ha privato di oggetti, ricordi, abiti eccetera, la soddisfazione di indossarli pur non essendo loro.